Il maltempo continua ad imperversare su tutta la Sicilia, colpita in particolar modo la parte orientale della provincia di Palermo, dove oggi c'è l'allerta arancione. Situazione meno difficile, ma sempre all'insegna delle nuvole, del vento e della pioggia, anche negli altri comuni. Si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio temporale, soprattutto sui settori settentrionali orientali, si legge nell'avviso della protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono anche mareggiate. Il maltempo ha provocato danni e disagi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto tra Misilmeria e Casteldaccia, per soccorrere alcune persone. È stato necessario anche l'intervento dei sommozzatori, che hanno soccorso alcune persone rimaste intrappolate. Di saggi anche in città per la pioggia caduta questa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due automobilisti rimasti intrappolati nella loro auto per l'acqua troppo alta. Per fortuna nessun ferito, ma soltanto molta paura. Il torrente milicia, che la notte del 4 novembre scorso stradipò, uccidendo nove persone che si trovavano nella zona di una villetta abusiva, torna a farsi minaccioso. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono in zona per assistere diversi automobilisti bloccati e per cercare di monitorare l'area. Interventi in provincia per allagamenti anche a Ficarazzi e a San Giuseppe Iato. Di saggi sull'autostrada A18 Messina-Catania fin da ieri sera. Diversi automobilisti sono rimasti fermi a causa di buche che si sono create sull'asfalto lungo la tratta Giardini Naxos-Taormina-Rocca-Lumera. Difficoltà anche alle Toianni, dove una ventina di auto sono rimaste bloccate. Disposta la chiusura parziale dell'autostrada, i mezzi leggeri provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e percorrendo la statale 114 potranno reimmettersi nella A18 attraverso lo svincolo di Rocca-Lumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l'autostrada con l'istituzione di un senso unico alternato che sarà disciplinato con l'ausilio della Polizia Stradale e del personale del CAS. Il senso unico alternato interesserà a tutto il traffico proveniente da Messina e diretto a Catania. La misura si è resa necessaria per effettuare gli interventi urgenti di ripristino del manto stradale. A Dacirreale due alberi sono caduti sulla strada statale 114 e un altro in Piazza Dante, vigili del fuoco del comando provinciale di Catania al lavoro per liberare le strade dai rami. Tutta colpa di un vortice ciclonico attivo a ridosso di Malta, contraddistinto da un'ampia ed intensa spirale nuvolosa che non abbandonerà la Sicilia ancora per qualche giorno.